La terapia con LVAD è uno dei pochi argomenti, forse l'unico argomento su cui, come dico spesso, vi è un gap tra il nostro paese, alcuni paesi europei e soprattutto l'altra parte dell'oceano. Quindi purtroppo non è ancora entrato nella mentalità del cardiologo italiano e nell'approccio per quanto concerne lo scompenso cardiaco avanzato. Quindi c'è parecchia strada da fare in questo senso. La terapia con LVAD è più che non venire proposta, credo ci sia un importante ritardo nella segnalazione dei pazienti. I cardiologi sanno che questa terapia esiste, ma spesso non hanno una completa conoscenza di quelli che sono gli effetti, l'efficacia di questa terapia, che soprattutto se tempestiva può migliorare non solo la sopravvivenza di questi pazienti, ma anche la qualità della vita, la capacità funzionale. Quindi è una terapia che può essere importante, ma in cui bisogna avere una diagnosi e un riferimento tempestivo del paziente presso i centri di riferimento. I falsi miti da sfatare sono soprattutto quello che sia ancora una terapia sperimentale, che sia una terapia che ha molti problemi, molti effetti collaterali, perché abbiamo ormai dei dati che sono estremamente rilevanti. Una volta dicevamo il goal standard della terapia dell'insufficienza cardiaca avanzata è il trapianto. Ora possiamo dire, per ora, il trapianto è il goal standard nel lungo termine, ma i dati che noi abbiamo per quanto riguarda l'assistenza ventricolare meccanica nel breve e nel medio termine sono assolutamente, in termini di sopravvivenza, sovrapponibili a quelli del trapianto cardiaco. Il ruolo delle società scientifiche credo che sia fondamentale, soprattutto se, come avevamo già fatto in passato con un coordinamento AMCO, ma portando a bordo la Società Italiana di Cardiochirurgia, la Società di Riabilitazione Cardiologica, avevamo intrapreso un programma di implementazione delle conoscenze sulle assistenze ventricolari meccaniche che aveva avuto un buon successo e credo che questo sarà uno degli aspetti che come Presidente AMCO ne ho eletto, io credo che riprenderò, perché penso che ci sia ancora, come dicevo all'inizio di questa intervista, molta strada da percorrere, proprio per migliorare le cure dei nostri pazienti con insufficienza cardiaca avanzata.